Roberto Finetti, capo officina premontaggio Scala. Santini diciamo è una tradizione del cantiere di Castellammare. Santino è quello che protegge la nave che prende per la prima volta il mare. In un primo momento erano due Santini, tre Santini. La Madonna di Campei, San Catello che è il padrono di Castellammare. Poi man mano con susseguissi delle costruzioni si sono aggiunti i vari Santini che portava un responsabile dell'armatore, un direttore. E quindi i Santini, man mano si è fatta una famiglia di Santini. Che per noi è un momento bellissimo della nave. Il momento più emozionante è il momento del Varo. Vedi nascere un figlio, il figlio man mano cresce, si fa grande, poi prende il mare e quindi è diventata grande. A presto.